La prima lezione oggi la fidiamo a uno scrittore di grande talento che è arrivato qui alla Holden una vita fa direttamente da un rave e se non ricordo male in stampelle e che poi è ripartito da qua per scrivere romanzi, per scrivere un'intera saga di personaggi memorabili. Ed è Cristiano Cavina. Leggo il messaggio. E prima di passare il microfono a Cristiano voglio leggere un messaggio che mi ha mandato il preside che oggi è a Roma perché ieri sera aveva uno spettacolo e che però ci raggiungerà in settimana. Auguri per un bel anno scolastico, salutami tutti, sono con voi e mi raccomando dai un saluto a Cavina e digli che vedere, aprire la scuola da lui è per me il traguardo di una vita. Parentesi, la mia, non la sua. Bene, buona scuola a tutti. Vai Cristiano. Ho visto stamattina alcune facce che sono qui alle 9.20, girare qua fuori, c'era anch'io, dovrei essere un po' abituato però sono un po' agitato perché non immaginavo che mi facessero, lasciassero questo onore di parlare io all'inizio della Holden, io ho fatto la Holden nel 99 e sì, non avevo le stampelle, quelle mi sono rotto un mese dopo, però sono fatto il colloquio di ingresso alla Holden direttamente venendo da un ravi svizzera di due giorni e mi sono presentato ad Antonella Parigi e Lea con gli occhiali da sole e non li ho mai tolti e dopo un'ora di scena muta lei mi ha detto ma tu non hai una famiglia degli affetti e io ho alzato gli occhiali e ho iniziato a parlare di mia nonna, io sono stato cresciuto dai miei nonni materni perché sono figlio di una ragazza madre che mi ha avuto molto giovane quindi mi hanno cresciuto i miei nonni e ho iniziato a parlare di mia nonna e lì è finita, che piangevamo tutti e tre, queste cose un po' così. Io in realtà ho fatto la Holden senza avere in mente di preciso cosa sarebbe capitato, in realtà l'ho fatta per scappare dal mio paese, io sono nato in Romagna, in un paese ai confini con la Toscana in mezzo ai boschi, molto piccolo, 2500 abitanti e una ragazza mi aveva lasciato e mi aveva spezzato il cuore e io la vedevo tutti i giorni e non ce la facevo a stare lì e avevo bisogno di una scusa per, io lavoravo, facevo il pizzaiolo la sera, la mattina facevo il portalettere, poi mi hanno licenziato dalle poste perché ho dato fuoco, vabbè. E quindi ho visto il bando della Holden e ho fatto, ho detto chissà magari, a me piaceva molto in quel periodo Baricco faceva, Alessandro faceva L'amore è un dardo e io lo guardavo mentre lavoravo in pizzeria e mi piaceva molto come raccontava, a me piaceva molto leggere, scrivo a chiavo, ho detto vabbè io provo, chissà se mi prendono e alla fine mi hanno preso, ho iniziato a fare la Holden e il primo mese ho fatto schifo perché già il fatto che mi avesse scelto la Holden io mi sentivo già arrivato, ho detto vabbè dai, è fatta, sto a Torino. Io stavo dal lunedì al venerdì a Torino, poi il venerdì sera prendevo un treno, tornavo nel mio paese, facevo le pizze e dal lunedì mattina tornavo a Torino. Solo che il primo compito ho fatto uno schifo e Baricco mi ha sgridato e gli ho detto vabbè visto che sono qui gioco a farlo scrittore, dal lunedì a venerdì scrivo. Mi seguivo tutti i corsi, ho imparato a scrivere sceneggiatura, ho imparato a scrivere per la radio, scrivere fumetti. Era la prima volta in vita mia che mi trovavo davanti a persone che, dei lobby che avevo io, loro avevano fatto un mestiere e quindi ho fatto quello che dovevo fare. Poi il secondo anno che ero qui ho scritto un romanzo che si chiamava La Grande, grazie alla Holden l'ha mandato alcuni editori e una casa editrice indipendente di Milano, la Marcosi Marcos, ha chiamato prima degli altri editori in Audi questi qui e mi ha chiesto se volevo pubblicare il libro e quindi mentre facevo la Holden l'anno che ho mandato in più come merito ho pubblicato il mio primo libro, questo è successo nel 2003, sono passati 13 anni. Io sono molto fortunato perché la Holden ha fatto del mio hobby il mio mestiere, io vivo esclusivamente dei libri che faccio, io non sono famoso quindi penso che qui quasi nessuno avrà letto i miei libri, però io di solito se non hai scritto un best seller o non sei un nome conosciuto, non è che si parla molto, io non sono, non ho mai scritto un best seller, penso che forse non lo scriverò mai e non sono così conosciuto, però con i miei nove libri penso, ho venduto, è giusto dirvelo perché poi è un mestiere, ho venduto 200.000 copie che mi hanno fatto guadagnare 180.000 euro che non ce li ho più perché ci ho pagato la casa mia mamma, cosa di cui vado molto fiero e poi con questi soldi ci faccio e soprattutto con questi soldi ci pago i corsi di parkour per mio figlio, i corsi di basso per mio figlio, l'assicurazione della macchina di mia mamma, le gite di mia mamma in terra santa perché mia mamma è cattolica, è suora praticamente, penso che l'unica volta che abbia fatto l'amore è rimasta incinta di me e poi non l'abbia più fatta, sono frutto del peccato, ero un po' terrorizzato di come andava perché è proprio nelle situazioni più ufficiali che viene fuori il peggio di me, raccontavo prima che alcuni mesi fa mi hanno invitato perché hanno tradotto uno dei miei libri in arabo, allora mi hanno invitato a questa incredibile festa del libro di Abu Dhabi, vi invito prima o poi a non andarci, la cosa bella è che quando vai vai a scrocco, mangi a scrocco che è una delle cose belle di scrivere i libri, ad Abu Dhabi sono brillanti perché per disturbo ti danno anche 800 dollari, sai così proprio tieni poveraccio dai, comprati un gelato e mi succedono in queste cose ufficiali durante l'incontro ad Abu Dhabi a metà della presentazione sono stato arrestato dalla polizia da Abu Dhabi, mi hanno portato via i poliziotti perché prima della presentazione avevo limonato con una ragazza in pubblico ed è vietatissimo e ho detto chissà cosa succede qua alla Holden, io fra l'altro sono stato fortunato, non so adesso com'è, perché quando l'ho fatto io fortunatamente non controllavo la fedina penale, ma la fedina penale è lunga di qui alla prossima, è la cosa che lascerò mio figlio con più grande orgoglio, ma la Holden mi ha consentito di vivere la mia vita come volevo viverla, io ho responsabilità da uomo, devo pagare l'affitto, devo pagare quello che avevo detto così e lo faccio, se lo dico a Baricco mi ride dietro quando mi vede ho l'agenda con gli appuntamenti, queste cose, io sono sempre puntuale, preciso, quindi ho responsabilità da uomo, però grazie alla Holden che ha fatto della mia passione un mestiere, posso fare questa cosa da ribelle, io pubblico ancora con la casa editrice che mi ha scoperto, che è la Marcosi Marcos, ho rifiutato nel corso degli anni tutti gli editori che mi hanno cercato, i primi furono al mio secondo libro che è quello che mi ha fatto di me uno scrittore, perché lo presentarono a che tempo che fa di fazio, allora andò in classifica, la Rizzoli, vennero a Casola, io abitavo e sono nato nelle case popolari, in un piccolo appartamento e venne Magagnoli che era il responsabile della narrativa di Rizzoli, venne a Casola con l'autista, entrò alle case popolari con questo macchinone della Madonna che nessuno aveva mai visto un macchinone così, io lo vedi dalla finestra di casa mia uscire con la valigetta in cui pensavo ci fosse il malloppo in contante in cui pagare, li ho portati a mangiare i passatelli in un ristorante insomma di Casola, abbiamo parlato di libri così, poi mi hanno detto guarda saremmo molto felici se tu il prossimo libro lo vieni a fare con noi e mi hanno anche detto l'anticipo che mi avrebbero dato per questo libro, ora io con la Marcosi Marcos l'avevo pubblicato alla grande, che l'avevo scritto qui a Torino in una settimana e mi hanno pagato come anticipo 1500 euro e a me mi sembravano un mucchio di soldi, perché io 1500 euro all'epoca in pizzeria ne guadagnavo 800 al mese, ho detto poi in una settimana di lavoro 1500 euro, mi vedevo già sulla strada di Briatore, è fatta, poi non va così, per il secondo libro mi avevo dato 5000 euro e la Rizzoli invece mi fece una proposta di un mucchio di soldi, adesso non sta bene dire quanti, però erano soldi che mia mamma come portalettere ci mette un bel po' a risparmiarli e io ho detto di no, poi sono andata a casa e mia mamma mi ha chiesto ma cosa volevano, volevano che scrivessi con loro, ma ti pagano? Eh sì, quanto ti pagano? E io gli ho detto i soldi che mi davano, e ha detto beh bene, e ha detto no ma guardo rifiutato, e mia mamma mi ha tirato dietro una sedia, vi giuro mi ha tirato dietro una sedia e ha detto sei come tuo nonno, c'è cose. E a me piace rispondere di no, un po' perché mi sono fregato innamorandomi delle parole che sentivo qui, mi ricordavo di Baricco quando leggeva il Sirano di Rostan, che leggeva al no grazie, ursu che dovrei fare, cercarmi un protettore, leggermi un signore, ed eledra guisa, ho detto ma faccio di testa mia, ma alla fine boh probabilmente magari avrei avuto venduto di più, fatto di più, però è meglio così, perché da piccolo io vabbè subito dai 5 ai 13 anni volevo fare il prete, perché io sono nato in Romagna, però voi se pensate alla Romagna vi immaginate tutti i comunisti, queste cose qui, io però sono nato nella minoranza cattolica praticante, era come vivere in Irlanda del nord, eravamo proprio circondati dai comunisti, mia nonna era molto religiosa, parlava al crocefisso, noi avevamo in casa un crocefisso appeso in sala, non il crocefisso quello che c'è a scuola, proprio due metri di crocefisso, io pensavo fosse quello vero, l'abbiamo uccisa le case popolari, non ne usciremo vivi, e quindi visto che vedeva nei miei occhi il sangue cattivo dei Cavina mi portava sempre in chiesa, immagino per farmi esorcizzare, e io fino a 13 anni ho fatto il chirichetto con l'idea di diventare minimo cardinale, poi a 13 anni sono stato espulso da una messa per Rissa e la mia carriera ecclesiastica è finita lì, fortunatamente a 13 anni la mia famiglia mi ha regalato, non so perché, una chitarra elettrica e un amplificatore, io non avevo mai suonato niente a parte alle medie il piffero, cos'è il flauto, non sapevo niente di musica, però appena ho visto la chitarra e l'amplificatore ho detto, ma faccio la rock star, e prima ancora di saper suonare un accordo ho messo su un gruppo con i miei amici, eravamo l'unico gruppo punk cattolico della Romagna, e dai 13 ai 18 anni, gli anni delle superiori, io li ho passati a suonare in camera, a imparare a diventare un chitarrista solista, dopo due anni che mi esercitavo tutti i pomeriggi in camera, perché all'epoca non c'era YouTube, che per vedere una solo ti guardavi il video, dovevi mettere sulla cassetta dei Guns N'Roses e poi a orecchio tirare giù, non avevo più voglia di imparare, a 18 anni mi hanno mandato via dal gruppo perché io poi ho iniziato a lavorare a 13 anni, a 18 facevo, aprivo il bar, chiudevo il bar, non avevo tempo per suonare e quindi mi hanno cacciato via e sono rimasto con un sacco di tempo libero, non potendo fare le prove così, un pomeriggio sono tornato a casa e mia mamma aveva dimenticato sul tavolo delle case popolari una macchina da scrivere, come portalettere aveva ricopiato il quaderno degli indirizzi, del suo giro di posta e io che non suonavo più, poi facevo le superiori perché io ho sempre lavorato e studiato, io ho bisogno di una scusa per non studiare, perché se no a mia mamma mi rompevi i maroni ma studia, adesso che non suoni studia, ho visto sta macchina da scrivere, c'erano dei fogli e mi sono detto, vediamo come funziona sto coso qui, ho infilato un foglio e a 18 anni ho scritto il mio primo romanzo, faceva cagare, era veramente bruttissimo, era ambientato nel mio paese Casola, era un thriller, dopo otto pagine avevo ucciso tutti i miei vicini di casa, la mattina mi svegliavo per andare a scuola, mi portavo dietro la macchina da scrivere, facevo buco e stavo fuori, invece io ho fatto l'istituto tecnico LITIS, stavo nel parco delle acque a scrivere sto romanzo perché dopo 150 pagine e la popolazione decimata non sapevo ancora chi era l'assassino, ho detto bisogna che finisca sto libro perché non sapevo neanche io, non sapevo cosa fare, ho fatto scoppiare un incendio nel libro che distruggeva tutto il paese e morivano tutti, ho detto così non so chi è l'assassino, chiunque sia è morto, ora quando imparerete, vedrete, farete qui i corsi, vi spiegheranno che bisogna sempre dire chi è l'assassino, se no non funziona. E da allora non l'ho mai smesso di scrivere, ho finito la scuola, ho iniziato a lavorare come pizzaiolo, una volta all'anno per due o tre mesi mi sedevo in camera la mattina nelle case popolari e scrivevo. Il mio secondo libro io amo molto Stephen King che è uno dei più grandi narratori di questo secolo ed è precedente, il secondo libro è stato un libro da Stephen King che si chiamava Casola V Main, che è lo stato di Stephen King e anche lì c'erano i lupi mannari, queste cose qui, ho ammassato un sacco di gente innocente. Il terzo libro è un libro di fantascienza in cui gli alieni conquistavano il mondo, a me piace molto la fantascienza e anche questo ovviamente di solito gli alieni quando conquistano il mondo partono da Londra, da New York, i miei alieni partivano da Casola perché quando hai conquistato la caserma dei Carabinieri, che c'è il maresciale l'ha puntato è fatta. Sono andato avanti a fare sti libri che erano poi cover di romanzi che mi piacevano per molti anni e mi piaceva un sacco scrivere, però vedevo che potevo fare di più, rimanevo lì a metà, non ero soddisfatto. A differenza della chitarra che dopo un po' avevo smesso di allenarmi con i libri non mi stancavo. Poi un giorno ero solo in casa, mia mamma era andata in gita in Israele come al solito, io a casa di mia mamma è arredata di foto di lei che porta la croce, cioè è una cosa incredibile, vabbè. Mio nonno era con i suoi amici all'Otoberfest, avevo 80 anni, con l'istituto di mio nonno, mia nonna era morta quando avevo 16 anni e visto che ero solo in casa, questi libri che scrivevo, io li scrivevo nei fogli A4 usando tutto il foglio, poi li chiudevo nelle buste e li spedivo alle case editrici, imparavo gli indirizzi a memoria perché mi piaceva leggere, sapevo tutti gli indirizzi delle case editrici, ho ancora tutte le lettere di rifiuto, nessuno li voleva, facevo schifo, avevo anche ragione. Ho detto visto che nessuno mi pubblica, il prossimo libro me lo faccio io, io ho fatto un'operazione molto semplice, invece di prendere il foglio per intero, l'ho messo in orizzontale e l'ho piegato a metà, un foglio A4 piegato a metà è un formato di un libro, ho tagliato a metà i fogli e non so se è stato rimpicciolire le pagine, mi si sono rimpicciolite le storie, niente lupi mannari, niente alieni ricoglioniti, niente queste cose qui. Ho raccontato di quando a 16 anni sono andato in viaggio studico e mi risparmi in Inghilterra, prima di partire mia mamma mi ha detto saluta tua nonna, mia nonna dormiva, mia nonna era professionista del sonno, lei dormiva in camera, poi si svegliava, rotolava fino a... mia nonna era grassissima, sembrava... avete presente le veneri preistoriche? Il culone, i tettoni, era questo essere gigantesco, si metteva nella sdraio perché non ci stava la poltrona nelle case popolari e dormiva, poi intanto si svegliava, sgridava chi passava oppure si svegliava, cercava di suicidarsi, faceva delle cose così, ha detto saluta tua nonna, ha detto vabbè hai 16 anni che la vedo tutti i giorni, la saluto quando torno. Sono andato a Londra, sono stato a Londra un mese con i miei amici, a quell'epoca sonava, avevo 16 anni, è stato molto bello, ci hanno anche arrestati a Londra perché giravamo per Londra spingendoci nei carrelli della spesa ubriachi e sono tornato e quando sono tornato ho scoperto che mentre ero via mia nonna aveva avuto un ictus ed ero in coma e in questo libro piccolo, in queste piccole pagine raccontavo di come non avessi mai salutato mia nonna prima di andarmene e non avrei più avuto modo di dirgli quanto era stata speciale per me e quel libro era la mia dichiarazione d'amore tardivo a mia nonna e lì ho trovato più o meno la mia voce, non ho più scritto thriller e ho continuato a raccontare di quello che avevo visto. Poi sono venuto qua alla Holden, questo piccolo racconto l'avevamo pubblicato l'Under 25 di Trans Europa, quella curata da Pier Vittorio Tondelli. Fra l'altro il mio primo giorno alla Holden è stato un po' strano perché appena sono entrato un mio compagno di classe che allora non sapevo perché il primo giorno come voi qui non l'avevo mai visto, appena mi ha visto mi ha detto ma tu sei Cavina mi fai l'autografo e questa antologia non l'aveva letta quasi nessuno però lui era un patito di narrative, l'aveva letta ed è una persona che vi auguro per chi vorrà far scrivere e di incontrare perché se incontrate e lavorate per lui è Marco Peano che è editor di Enaudi che era un mio compagno di classe della Holden. E ho fatto la Holden così, continuando a raccontare queste storie cercando di rubare un po' da tutti ed è stato molto soprattutto molto utile ma anche soprattutto molto molto divertente. Io davvero, è un lavoro particolare, io vi auguro a tutti, immagino che siete qui perché avete una grande passione o per lo scrivere o per la sceneggiatura, per il cinema, per la televisione, il teatro, non lo so. Vi auguro di farlo come mestiere, è un mestiere particolare, ora a meno che subito non farete il grande film che farà facili a botteghino o farete il best seller da milioni di copie. È un bellissimo lavoro perché dipende solo da te, è molto rischioso, assomiglia un po' ad essere comandante di un galeone di pirati, almeno per come la vedi io. Io ogni anno devo scrivere un libro perché vivo di quello e devo scriverlo non a caso, deve essere più o meno leggibile. però mi piace tanto che dipenda solo da me e mi piace farlo con lo spirito garibaldino di essere andato, di non aver fatto quello che dovevo fare. Se pubblichi, molti di noi hanno pubblicato il primo libro con un piccolo editore, poi se ti metti in mostra, passi a quelli più grandi. Mi piace non aver cambiato perché ho fatto quello che volevo fare a 18 anni, volevo restare ribelle come stai quando sei adolescente e scrivere libri così mi dà modo di essere per questo un ribelle e vivere questa vita da ribelle, non facendo apposta e tirandosi, ma passando più delle volte per rincoglionito, però a me mi diverte. Questo mestiere è molto bello perché poi vedi un sacco di posti diversi, non paghi i viaggi, non paghi il mangiare, è tutto pagato. A volte ti pagano anche ed è molto bello. E soprattutto alla Olden ho imparato a non prendermi troppo sul serio, c'erano le lezioni con Starnone, con Baricco, con grandi professionisti, però nell'intervallo giocavano tutti insieme con la palla di spugna a calcio tennis nella vecchia Olden, lo spazio, e non prendersi sul serio è molto importante. Io ho avuto la fortuna con un mio libro di essere selezionato per il premio Strega e vado con molto orgoglio, vado fiero di essermi presentato al primo incontro del premio Strega con la maglia dei Sex Pistols. Al secondo incontro all'Auditorium di Roma ho avuto il grande onore di non essere riconosciuto perché la serata era presentata da Serena Dandini all'Auditorium. Io ero il più giovane dei finalisti e mi ha chiamato per ultimo. Mi ha detto adesso tocca a Cavina, io mi sono avvicinato al palco. Quando sono passato sotto il palco la Dandini ha coperto il microfono e mi ha detto la spia non funziona. Ho detto guardi non sono il tecnico audio, sono Cavina, però sono perito elettrotecnico, per me è un fusibile, se ce l'hai te lo cambio. Anche se l'apice della mia carriera di scrittore l'ho toccata all'incontro ufficiale del premio Strega nel teatro di Benevento con sottosegretari del governo, il prefetto di Benevento, la moglie del prefetto, il vescovo, una bellissima serata al teatro condotta da Marino Sinibaldi che adesso è il direttore di Radio 3, allora era il conduttore di Fahrenheit. Marino mi conosceva perché mi invitava sempre a Fahrenheit, non so se avete mai seguito Fahrenheit su Radio 3, molti contenuti molto intellettuali. Quando aveva bisogno di abbassare il livello chiamava a me, buttevamo a cacciare. Quando mi ha fatto salire sul palco ha fatto dare il microfono al prefetto di Benevento che era in prima fila con la moglie e gli ha detto signor prefetto cosa ne pensa di Cavina? Il prefetto era palese che non aveva letto niente di me, neanche il libro che era lì in finale. Il prefetto, essendo un politico, ha la parola pronta, ha detto no, sono contento che ci sia un ragazzo così giovane, così giovane che potrebbe essere mio figlio. E io che sono un romagnolo, insomma, non sto mai zitto, ho detto guardi che io potrei davvero essere suo figlio perché non so chi è mio padre, mi ricordo ancora la moglie del prefetto di Benevento che si è girata così verso di lui e il vescovo di Benevento dall'altra parte che si è girata così, lui ha parlato tutto bianco, il marino mi ha detto dai sta comunque buono, lui ha detto no, no scherzavo, magari un peccato di gioventù in riviera. E questo è, tutte queste cose divertenti che mi capitano sono in larga parte a merito della Holden. La cosa che più mi ha fatto incazzare quando ho finito la Holden, ho iniziato a fare lo scrittore, io ho di mestiere, anche se quando mi chiedono che mestiere fai dico che faccio il pizzaiolo perché mi vergogno, i miei amici non scrivono, hanno sempre reputato scrivere una cosa un po' non da uomo, poi sono tutti ignoranti, non ho studiato niente, vabbè. Allora, quando ho finito la Holden e ho pubblicato i libri e ho iniziato a fare gli incontri, c'era sempre quando alla fine ci sono le domande tra il pubblico, c'era sempre quelli in fondo un po' nascosto che alzava la mano e con aria un po' di scherno diceva ma lei ha fatto la Holden, come se fosse una cosa di cui vergognarsi, è uno dei motivi per cui io stimo molto per l'idea che ho avuto tanti anni fa Baricco di aver aperto questa scuola, perché c'è una cosa dell'Italia che mi è sempre stato un po' sul cazzo se posso dirlo, che è questa faccenda per cui tu scrittore così ci devi nascere, io ne conosco molti di scrittori e sembra gli eletti con la piccione dello spirito santo, sono nati scrittori e il fatto che uno aveva visto aperto una scuola anche di scrittura in Italia, mi sembrava una buffonata, ma è arte, bisogna nascerci e per me sono puttanate queste, io andavo, sono sempre dato molto orgoglioso dicendo sì ho fatto la Holden, è stato il metodo più bello per coltivare soprattutto la mia passione, oltre che imparare praticamente a scrivere sceneggiature e altre cose, io non sono nato scrittore, tutto nella mia vita era contro diventare scrittore, mia mamma non ha finito le scuole medie, mia mamma ha fatto solo la prima media, poi non è più andata a scuola, i miei nonni non hanno studiato, facevano solo la firma fatta anche male, non c'erano libri in casa mia, non c'erano libri, poi a me a un certo punto a cinque anni ho iniziato a leggere, sono vissuto in una terra di gente che non sta mai zitta, le storie hanno sempre fatto parte di me, a un certo punto amavi libri, non stavo mai zitta al bar, ho iniziato a scrivere, però io non sono nato scrittore, sono diventato scrittore, ho imparato, ci ho messo otto romanzi che nessuno leggerà mai, milioni di pagine, finché non ho trovato la mia voce e ancora adesso ogni volta devo comunque mettermi lì e fare il mio bellissimo mestiere. C'è questa visione del talento, io vado spesso a scuola, molti miei libri vengono usati in tutta Italia come testi di narrativa e alcuni miei libri sono finiti anche, questo appena lo dico a baricco, lo prendo per il culo, sono finiti nei libri di scuola, nei libri di italiano dei licei, a me mi fa ridere perché il mio nome nell'antologia viene dopo Calvino e io dico ma non sono degno, cavatemi dal di lì, e i ragazzi a scuola, io vado più spesso a scuola adesso che non ci dovrei andare di quando ci dovevo andare, mi sono proprio condannato all'ergastolo da solo, hanno questa visione anche loro del talento come qualcosa di innato che nasce con te, non è così, il talento esiste ma non ha a che fare con la bravura, il talento secondo me ha a che fare col desiderio, col desiderio e anche quasi con l'ossessione, il voler fare una cosa per il solo piacere di farla, di vedere tu che migliori di volta in volta, indipendentemente dal fatto che voglio diventare scrittore, ma proprio perché ti piace mentre lo fai e quello si può imparare. Quando Baricco ha fondato questa scuola, ora non ve lo diranno adesso, poi voi siete tutti giovani, ma io mi ricordo dei primi anni che la prendevo per il culo la Holden, non si insegna a scrivere, si nasce scrittori, sono cazzate, è ovvio che però non tutti poi alla fine diventeranno sceneggiatori o scrittori, poi lì la vita ha tante variabili, però sono cose che bisogna imparare e quello che fa la differenza non è che siate nati Proust o chissà chi, la differenza è avete voglia di stare delle ore a pigiare i tasti del computer per il solo piacere che vi dà a pigiarli, ecco quello non si può insegnare, la voglia quella dipende da voi, se avete voglia e se avete il coraggio, se siete qui avete già fatto molta strada di seguire, forse è bello il talento, è l'ago della bussola che ti dice perché non provare a fare la Holden visto che mi piace tanto questa roba qui, un pezzo l'avete già fatto che siete qui, la voglia dipende solo da voi, il resto non preoccupatevi che se avete una voce e poi spesso che tutti soprattutto hanno una loro magagna dentro. Una delle prime lezioni a Holden Nicolini ci disse la ferita, come si chiama de Bergerac, ha ciascuno di noi la sua ferita, a volte quella ferita che magari ti fa male è anche buona parte della benzina per cui tu provi a raccontare quello che senti. Per me è stata, penso, crescere senza padre in una famiglia un po' sgangherata, però c'è una poesia di un poeta romagnolo che si chiama Olindo Guerrini, che si chiama Il mio babbo, che dice, non ve la dico in romagnolo, ve la dico più o meno in italiano, mio babbo che era un fallito, che è andato in America, che è tornato senza soldi, che voleva firmare le lettere come commendatore e tutti gli ridevano dietro, mio padre che voleva fare il signore e non era nessuno, che bestemiava al bar per fare il gradasso, poi tornava in casa e si inginocchiava a chiedere scusa alla Madonna. Mio padre, fra tutti i padri più sgangherato, ha scritto dentro di me tutte le mie poesie. E io penso che ciascuno di noi ha una ferita che dentro di noi scrive le nostre storie o comunque le indirizza. La voglia di scrivere quella non ve la possono insegnare, per il resto siete nel posto giusto. Io vi auguro di fare di questa vostra passione il vostro mestiere, poi per chi vorrà restare nel lato oscuro, si può anche fare questo mestiere andando anche un po' al contrario e facendo quello che nessuno si aspetta. Avete qualche domanda? Abbiamo una domanda? Urla forte che non sento. Infatti vengo, ma prossimo. No, comunque dicevo che ti volevo ringraziare per le tue parole, perché prima ancora che le parole appunto di uno scrittore, affermato o non affermato, questo penso può conti in realtà molto relativamente, sono le parole umane di una persona che ha avuto delle difficoltà come ci sono nella vita e comunque è stato molto emozionale. Questa cosa io ti ringrazio già per questo e anche per le risate devo dire. Per il resto volevo chiederti due barra tre cose veloci. La prima è appunto quando tu inizi a scrivere naturalmente, tu hai un'influenza che nasce anche da ciò che leggi. Molte volte leggi un autore e ti piace quell'autore e quindi in un certo qual modo dici voglio essere come lui o comunque voglio cercare di essere come lui. Ora tu facevi l'esempio su Proust, io lo faccio su Saramago, non si nasce Saramago, anche se Saramago ha iniziato a scrivere dei capolavori a 60 anni, non è che ha iniziato a 20 anni, però quello è talento ed è genialità. Però c'è un autore a me che mi piace particolarmente e non è neanche conosciutissimo, è abbastanza conosciuto ed è John Fante. John Fante è uno scrittore che è di un'emozionalità per quanto mi riguarda enorme. Ha vissuto anche lui, io quando sentivo le tue parole e anche la tua ironia in realtà molte volte, risentivo un po' le parole che leggevo nei libri di Fante, dove c'è quell'emozionalità enorme che io ricordo uno dei libri di Fante che ho letto, io ho pianto, perché a un certo punto la confraternità del canto, io li ho pianto. Io sono più da full of life, però ho riconosco tutti. No, no, li ho letti pure tutti, però dico quello è stato probabilmente anche perché è stato forse l'ultimo, quindi ero disperato che era finito Fante per me, però sentivo molto questo sentimento emozionale. E appunto volevo chiederti quanto conta l'emotività e poi l'ultima domanda, la terza, com'era il rave? Perché penso fosse bello. Partiamo dal rave. Il rave era una figata, devo ammettere che ho avuto per molti anni, insomma, no non posso dirlo cazzo, mi faccio espellere in ritardo alla old, no, il rave era molto bello. Non calavo gli occhiali perché avevo l'impallatura del meca, hai presente quando gira la rotellina arcobaleno, avevo gli occhi così che giravano, perché avevo troppa camomilla, sai queste cose, un po' così. No, sai qual è la cosa bella perché siete nel posto giusto? Te mi dicevi John Fante, io sono un grande lettore di John Fante, lo ero prima di venire alla Olden. La Marcosi Marcos è stata la casa editrice che ha fatto rinascere John Fante in Italia e io uno dei motivi per cui non lascio la Marcos è perché sono onorato di avere lo stesso editore di John Fante e ti dirò di più, durante il mio primo anno di Olden, alla Olden, venne Dan Fante, il figlio di John Fante che io ho conosciuto e mi ricordo come fosse oggi, c'era una pizzeria, in Corso Belgio era, si chiamava Fratelli Bandini, i proprietari erano fusi, l'avevano fatta tutta su John Fante, c'erano pareti, i nomi delle pizzeri, i nomi dei personaggi dei libri, c'erano le foto di John Fante le pareti, le piastrelle, erano riproduzioni delle pagine di John Fante, io mi ricordo che gli portavo Dan Fante che entrò e si mise a piangere, guarda, c'è i brividi, perché lui in America non era praticamente nessuno suo babbo e il fatto che a migliaia di chilometri da casa sua, nella terra di origine della famiglia Fante, lui fosse, non per la pizzeria in dato, ma per l'amore che sentiva dei suoi lettori, era incredibile. Io il mio primo libro come scrittore ho trovato la mia voce grazie a un libro di John Fante che vi invito tutti a leggere, non lo pubblicano quasi più, è un po' difficile da trovare, che è Il Dio di mio padre, sono dei racconti bellissimi e lì la sua voce mi ha fatto da guida per trovare la mia voce. John Fante, i primi libri di Osvaldo Soriano, un grande scrittore italiano che tutti conoscono i suoi personaggi ma nessuno ormai legge più, perché tutti sanno chi sono Don Camille Peppone ma nessuno legge più Guareschi e Guareschi per me è uno dei più grandi scrittori della nostra lingua, quindi quelli sì mi hanno molto aiutato. Ogni libro che scrivo, poi qui adesso nei prossimi anni avrete modo di parlare e chiedere direttamente a tanti scrittori o sceneggiatori o quello che è, scoprirete che ognuno ha il suo metodo. In linea di massima se sei un giallista funziona diverso che come me, io scrivo mainstream, non faccio genere. I giallisti di solito hanno scalette, preparano molti personaggi prima, queste sono cose che poi mi insegneranno qui, io le ho imparate qui. Però io che non faccio scalette e non ho schede dei personaggi, perché i personaggi meno male sono presi pari pari dalla mia vita, ho però ogni mio libro, ho un libro guida. Non che lo copio ovviamente, poi faremo una figura di merda incredibile, però è tipo quando uno scrive, chi è che di voi scrive con la musica sotto? Ecco, io non scrivo con la musica sotto, invece della musica ho un libro. Il mio primo libro alla grande l'ho scritto leggendo un libro che mi aveva regalato un mio amico della Holden, Carpin, che adesso insegna alla Brown University negli Stati Uniti, e mi regalò il prete bello, lui era Veneto, e mi regalò il prete bello di Goffredo Parise, e quello l'ha fatto da guida alla grande. Il mio secondo libro, Paese di Tolentac, l'ho scritto leggendo di continuo un lessico familiare della Ginzburg. Il mio terzo libro, l'ultima stagione di esordienti, l'ho scritto leggendo splendori miserie del gioco del calcio di Galeano, i frutti dimenticati, l'ho scritto leggendo Full of Life, che poi non leggevo neanche la sua memoria Full of Life, e ogni mio libro ha un libro guida, quello sì. Del resto il bello della narrativa e di queste cose comunque che hanno a che fare con un briciolo di creatività è che nessuno di noi inventa niente, è come la musica, nessuno inventa niente di perfettamente nuovo da un giorno all'altro. Se hai un gruppo rock, un gruppo IV, a me piaceva molto il metal dal ragazzo. Comunque puoi vedere da dove arriva, risali indietro, 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 i Black Sabbath, le Zeppeli. E anche la narrativa è così, io mi stavo un po' sulle palle con gli scrittori, ne ho sentiti molti che dicono no, ma io non devo niente a nessuno, no? Quando in realtà vai a leggere tutti per neanche qualcosa. Molta della narrativa italiana, fino a qualche anno fa, doveva tantissimo a Stephen King. E l'unico che ho sentito, che ho avuto il coraggio di ammettere, è stato a Manniti. L'ho sentito con le mie orecchie, proprio parlando in un discorso neanche pubblico, in privato, dire no, ma io senza leggere IT o così non avrei mai, perché comunque tutti ci ispiriamo a qualcosa. Poi prendi qualcosa di altri, passa attraverso te, lo mischi col tuo e diventa una cosa solo tua. Però sì, io sono sempre, guardo anche altri scrittori, è giusto che sia così. La mia voce deve molto a quelli che ti ho detto. Ma bisogna, è qui ne avrete da prendere su, c'è di roba. Qualcun altro? Ciao, frutto del peccato. Sono molto contento che tu sia qui, perché io ti ho conosciuto attraverso, anni e anni fa, 4-5 anni fa, un pomeriggio attraverso le parole di una persona che pensavo sarebbe stata mia maestra, al fine è diventata mia amica, che è Claudia Tarolo. Sì. E visto che parliamo di droga, era una giornata strana, ero incazzato, stavo piangendo. Chi è che ha parlato di droga? Qualcuno ha parlato di droga? Ero anche un po' fatto, ero tanto incazzato. E lei mi ha detto, guarda, la gicavina. E per certe cose sei molto importante per me. E volevo sapere quanto di alla grande c'è, quanto di scuola Holden c'è in alla grande e quanto invece è stata influenza personale di quello che tu hai vissuto, ma mi interessa tanto visto che, bene o male, sono qui in questo momento e tu sei qui. Alla grande l'ho scritto in una mansarda di Corso Francia. Io sono venuto qua a Torino il giorno prima di iniziare la Holden, perché prima dovevo lavorare e mio zio non mi aveva dato il permesso di venire prima. E abbiamo trovato casa insieme a Andrea Tomaselli, che penso incontrerete perché insegna qui, che era mio compagno di classe. In questa mansarda senza finestra in Corso Francia, io avevo nella parte di sottotetto a destra, lui in quella sinistra. Avevamo il cesso e i due letti. Per dividere le stanze avevamo attaccato al muro, avevamo comprato una tenda da bagno, l'avevamo montata così per avere un po' di privacy. L'ho scritto, lo scrivevo quando tornavo a casa dalle lezioni. Il secondo anno poi c'era molto fornara, molto cinema. Devo molto. Fra l'altro ti dico, il primo capitolo dalla grande, il primo capitolo, che inizia con una confessione di un ragazzino al prete prima della messa. L'ho scritto per un laboratorio della Holden. All'inizio dei primi laboratori gli faceva Baricco e la De Angelis. E ovviamente, anche giusto, molti dei ragazzi, tutti, c'era la coda per andare da Baricco. Io che sono ricoglionito, e mi piace anche fare un po' a Bastian Contrari, uno dei pochi, gli ho detto, no no, io vado dalla De Angelis. E ho scoperto questa signora che abitava in via Barbarù, in questa casa un po' anziana, lei aveva fatto l'edito da Pasolini, mi pare. Io avevo scritto sto racconto, che era proprio iniziava, ci confessavamo così, e era proprio un laboratorio, lei correggendomelo. Poi mi ha chiesto, ma te cosa fai? Ho detto, no, ma guarda, io sono qui perché mi ha lasciato l'amorosa, ma faccio due anni, poi me ne torno a casa a lavorare, cioè non è che farò sto qui di mestiere, io lavoro, io adesso ho 43 anni, ho 30 anni di contributi, cioè io con la vecchia, io sarei già pensionato, cazzo, con la vecchia. Vabbè, io non pensavo, lei, ho detto, guardi, poi io ho mandato una cosa, ho pubblicato una cosa piccola, poi le altre cose me le rifiutano, io non ce ne ho, no? E mi ricordo che lei mi invitò a casa sua, durante il primo anno della Old, in questa casa in via Barbarù, era piena di libri, ancora incelofanati, perché a lei gli regalavano. E lei mi ha detto, guarda, io sono stata l'editor di Pasolini, ho lavorato con Soriano, e mi ha detto, te sei scemo, cioè te devi scrivere. Questo racconto, dopo non mi ha detto, quando l'ha corretta la fine, mi ricordo che l'ho presa su così e disse, questo racconto è bellissimo. E quel racconto è diventato l'inizio della grande. Pochi mesi dopo, visto che io non avevo ancora il computer, non avevo niente, io la mia prima mail, che è tuttora la mia mail, non l'avevo quando sono venuta qui, me l'ha fatto la mia compagna della Olden la mail, perché serviva per la scuola, io non ce l'avevo. E ho ricopiato a macchina questo racconto che ho scritto, come laboratorio Olden, il fatto è che quando ho finito di ricopiarlo, non ho finito, ho continuato. E è venuto fuori quel libro. Quindi anche come scrittura, alla grande deve molto, deve molto anche per la vita che ha avuto dopo, alla grande lo ristampano ancora, è uscito 13 anni fa. E alla grande ho trovato un editore, perché la Olden, i miei amici, i miei compagni di classe, Andrea, Tomaselli, lo leggeva quando eri in casa, ce l'aveva lì. Mi diceva, ma dai, ma sto libro è una figata, fallo leggere. Le dicevo, ma chi cazzo li frega, c'è un paesino, caso là. E fece tipo una sorta di colpo di stato con Antonella Parigi, gli diede il manoscritto a Antonella, che era la direttrice, Antonella chiamò la Marcos, gli dicevi mando questo libro di questo ragazzo che fa la Olden, penso che lo mandò anche in Audi, anche dei miei racconti mandarono. E la Marcos ha chiamato per prima, subito per un racconto, perché la prima cosa che ho pubblicato in vita mia, proprio che considero vera, è stato un racconto, che anche quello l'ho scritto qua, che si chiamava Il Babbo Natale di Viale Neri arriva prima, perché noi che eravamo di Viale Neri, che eravamo famiglie un po' più sgangherate, il prete ci faceva entrare nel convento dei frati il giorno prima di Natale, dove c'erano i giochi che le famiglie mandavano per i bambini dell'Africa, e noi ci facevamo andare lì e potevamo scegliere un gioco, quelli delle famiglie un po' più sgangherate. E allora per noi il Babbo Natale arrivava un giorno prima. E ho scritto questo racconto, la Marcos mi ha pagato 100 euro, e l'hanno pubblicato in un'antologia che si chiama Il quarto Re Maggio, che quando l'ho visto è stato un grande onore, però ho detto cazzo, tutti gli altri scrittori erano tutti i morti, c'erano Montpassant, Bolo, ho esordito in un cimitero, però era un grande onore, perché c'era Cavina, c'era Pasolini, e dopo il racconto è piaciuto, mi ha chiesto il libro, mi hanno telefonato, ho ricevuto la telefonata della Marcosi Marcos a casa qua a Torino, che mi ha detto abbiamo letto questo romanzo che ci ha mandato Antonella, è molto bello, se gli scrivi il finale, perché non c'era il finale, noi te lo pubblichiamo. Io ho finito la Holden in quel punto, ero per far l'anno in più che mi avevo andato, e mi hanno detto a novembre del 2002, mi hanno detto che l'avrebbero pubblicato a marzo del 2003, e io da novembre a marzo ho smesso di andare a ballare il sabato sera perché avevo paura di morire prima che uscisse, ti giuro. Io andavo tutti i sabati sera al Classic a Riccione, un localino che apre alle cinque di mattina, e ho smesso di andarci perché ho detto cazzo se muoio è meglio che mi dà una calmata. Poi è uscita la grande e ho smesso di drogarmi da un giorno all'altro, perché non era più divertente, cioè era divertente però era un lavoro a tempo pieno e c'è sta vita bohemian che te stai sveglio fino a tardi poi scrivi, sono cazzate, l'ispirazione non esiste, se non ti metti la mattina a scrivere non cambini niente. E io da un giorno all'altro ho dato un taglio a tutto, vabbè, sono scelte, ho fatto bene e è uscito alla grande e io da un giorno all'altro, poi sono tornato a casa a fare le pizze e mi sono trovato con i giornalisti che mi facevano le interviste e mi chiedevano cosa si prova ad essere scrittore e io dicevo ma guarda che sono un pizzaiolo, che sai che ti dica. Però sì, la Holden devo tantissimo, non solo per quello, io ho anche lavorato, grazie alla Holden io ho imparato a scrivere sceneggiature, a me non vi è naturale scrivere una sceneggiatura, neanche un soggetto per dire, però io ho lavorato, ho fatto una sceneggiatura per un film che è anche uscito in qualche sala, ma c'è schifo però vabbè, ho scritto anche cose per la televisione, ho scritto radio commedie, fra l'altro ho anche pagate bene e l'ho imparato proprio qui, ho imparato a scrivere per la radio con i corsi di Sergio Ferrentino che è l'uomo di radio popolare, l'uomo che ha inventato Cuttersport, l'uomo che ha inventato la Jappas Band, un personaggio che insegnava qui alla Holden, faceva radio, quindi devo molto proprio anche come mestiere a questa scuola, ma proprio vero mestiere, che è la cosa più bella, perché ovvio che tu la senti anche come realizzazione tua di quello che vuoi dire, ma la cosa bella non è solo quella, è quando proprio diventa il tuo lavoro, lì poi bisogna essere bravi perché è un lavoro che nessuno ti può obbligare, non è che devi andare lì a timbrare il cartellino, però tu devi farlo, cioè io devo scrivere e bisogna avere anche la capacità di mettersi lì e sfornare le pagine, farsi venire l'idea, io ho imparato qui anche la disciplina che mi è servita e poi mi sono divertito insomma, abbiamo anche fatto la prima, non c'è più stata, la prima rissa in aula della storia della Holden, mi ha fatto botte, è stata una cosa bellissima con il prof che era Francesco Pettinari, nascosto sotto il tavolo che piangeva, mentre ci tiravano delle sedie addosso dentro l'aula, è stato veramente molto 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 bello, poi non si è fatto male a nessuno quasi, quindi ci sta. Ciao, mi chiedevo se tu adesso oppure una persona come te verrebbe alla scuola adesso con la retta che c'è, non so quant'è la retta, 10.000 all'anno, io quando l'ho fatto io costava? Era in lire, 10 milioni, 9, 9 milioni col cambio, io ho fatto la Holden, devo dire la verità, per essere, io sono sempre sincero, me ne frego di quello che, io ho fatto la Holden perché facevo due lavori e le poste mi pagavano un milione e mezzo al mese e mio zio in pizzeria io prendevo un altro milione, tutti i miei soldi se non li spendevo in bamba o cose così finivano, finivano da parte, li spendevo solo per i libri, insomma, però non avevo così tanti soldi e quindi io sono venuto perché mi hanno dato la borsa di studio. Io però appena ho visto, io ho fatto la Holden nella vecchia sede che voi non l'avete mai visto che era nel corso Dante, io non sono di quelli che dicono si stava meglio quando si stava peggio, io vi assicuro che la Holden adesso è 10.000 volte più bella, io quando sono venuto all'inaugurazione qua l'ho visto e ho detto io mi riscriverei, poi nella vita devi scegliere per cosa fare i sacrifici, per una scuola che com'è, per quello che dà, io mi si riscriverei e lavorando, mettendo da parte i soldi c'è modo, è ovvio che se hai no grana, zero lire, però se puoi metterli da parte, farteli prestare i tuoi o lavorando, io si la farei. Poi in sto posto è una figata, adesso non so chi di voi è il primo anno che non siete andati di sopra, è una figata sta scuola. Poi è una di quelle scuole che io ero abituato all'ITIS, cioè figurati, a parte due o tre professori che erano un po' strani così, due maroni, qui poi fai materie che se sei iscritto qui ti piacciono, anche se le orarie sono imperativi, penso sia ancora così, noi iniziamo alle 10 di mattina e finivamo alle 6 di sera, tutti i giorni, però era bello perché poi ti piace scrivere e viene lo scrittore. Teatro, non c'è uno studente di teatro, un professore di teatro, c'è proprio un regista di teatro, noi facciamo anche un vacis per dire. Cinema viene uno che di mestiere fa dei film, quindi questa è una cosa che non trovi da altre parti e poi Torino intorno è una città che non so, porta, ti fa venire voglia, quindi io sì mi riscriverei, poi non avendo più spese accessorie per cose illegali si risparmia molto di più, quindi io decisamente, infatti l'ho detto, io mi riscrivo, però non so se posso riscrivermi. Una volta ci ho provato ma ero andato a parlare in una scuola, in un liceo in Norvegia perché avevo della roba tradotta là e sono entrato in questa scuola norvegese, io ero abituato all'alberghetti di Imola, vai in questa scuola bellissima, sembrava quegli angoli dell'IKEA perfetti, no? Tutto bello così, poi l'aula magna era fatta come avete presente nel quadro lo studio dell'anatomia, le vecchie aule dell'università con i banchi di legno, l'aula magna era così, io ero lì poi si apre la porta, poi l'incontro con gli studenti entrano 300 studentesse norvegesi, io a Littis eravamo 700 studenti maschi, l'unica cosa femminile, poi c'ho scritto anche un libro, l'unica cosa femminile era, visto che era un edificio pubblico, avevi due bagni, era la sagoma delle donne nel cesso per le femmine, in cui una mano ci aveva scritto sì magari, con la freccia, quindi mi sono ritrovato in Norvegia con queste qui, alla fine ho chiesto al preside con il mio inglese un po' così, it's possible for me, I make it technical institute in Imola, but it's possible for me, riscrivermi, lui mi ha detto it's not possible, ho detto affanculo, però se potessi, adesso chiedo a Baricco, dopo gli mando un messaggio, posso riscrivermi al master per rifarlo, perché è belli i corsi, ma soprattutto il bello, non so adesso voi in che ambiente siete cresciuti, ma per me ritrovarmi con altri ragazzi che avevano la mia passione e chiacchierare, ubriacarsi parlando di libri, è una cosa che a casa mia non avevo mai fatto, perché alcuni miei amici leggono, ma non sono poi così fissati come me, mentre qui secondo me vi piace più o meno tutti leggere i film, per me è stato bello fare le 5 di mattina ai murazzi, tutti ubriachi, a litigare su qual è il film più bello di Cronenberg, o sui Velvet Underground, o su John Fante, l'ambiente è stimolante, ed è utile, io ti dico la mia classe, l'anno scorso ho aperto le lezioni Alice Rovacher, la regista, era mia compagna di classe, l'altro mio compagno di classe è che noi eravamo il duo, il terrore di Baricco per i casini, eravamo in fondo all'aula sempre, l'amo io, e Pietro Grossi, che è uno scrittore che è stato finalista allo Strega, pubblica adesso l'ultimo, è uscito adesso per Feltrinelli, Peano che è editor importante delle Einaudi, Silvia Pareschi che è la traduttrice di Cormac McCarthy e Don De Lillo, Favotte che è stato sceneggiatore per tanti anni, tipo dei Cesaroni in Mediaset, quindi i miei amici, questa scuola per noi è stata proprio utile, davvero utile, quindi sì io mi riscriverei domani, solo che ho il bambino, il figlio, poi sono sempre in giro per i libri, mi manca solo che mi manda la nota a casa Baricco perché non mi presento mai scuola, come ai vecchi tempi di quando facevo l'ITIS, però sì lo rifarei, assolutamente. Voi dovete dirmi se vado, io non so l'orario, non ho orologi, quindi vai, io sto anche qui quanto... adesso bevo perché c'è un po' di... nel tuo discorso prima che è stato più un racconto, bellissimo, quando hai parlato dei vari incontri del primio strega e della maglietta dei Sex Pistols mi hai ricordato tantissimo Tarantino, quando è venuta la prima volta in Italia, ha presentato le Iene e nessuno l'ha riconosciuto perché aveva la maglia di Leone e si è praticamente inchinato davanti a Castellari, che qua nessuno caga però è un grandissimo, e questo qua non capiva che cosa volesse, questo americano vestito con la magliettina tipo da fan di Leone e poi è salito sul palco e ha detto che era il regista di quel film pazzesco, che non capiva neanche come se fosse venuto fuori. Ecco, vedendo anche la tua maglietta e in modo molto egoistico, visto che io farò cinema, volevo chiederti il cinema nel tuo lavoro di scrittore, principalmente di libri, che influenza ha avuto? Hai parlato anche di Cronenberg, quindi abbiamo gusti simili, grazie. Io ho un rapporto particolare, dico il cinema con i miei libri, io scrivo tutti i libri in prima persona e molti sono molto pieni di come questa persona vede, è un'epica della quotidianità, tutta ambientata in un paesino che è più o meno Casola, quasi tutti i miei libri sono così. Se hai letto qualche libro di John Fante, diciamo quel genere lì, non degno di John Fante però, ed è abbastanza difficile, i miei editori, il mio primo libro fu opzionato per farci un film, da una grossa casa di produzione che allora aveva un mucchio di soldi perché aveva appena prodotto per Rai 1 Elisa di Rifombrosa e io andai a Roma con i miei editori a parlare che volevano fare il film, solo che eravamo in questa stanza che c'erano i boss della casa di produzione e poi c'erano i ritratti giganti degli attori di Elisa di Rifombrosa, di 3 metri per 3, e io di fronte avevo il ritratto di Alessandro Preziosi che sembrava volesse limonarmi, era abbastanza imbarazzante, non riuscivo a essere serio. Poi hanno iniziato a parlare di quello che volevano fare con Alla Grande e io da allora non, lo so sono un coglione, da allora non do il permesso, non voglio che facciano fin dei miei libri, perché poi alla fine c'è mia nonna, c'è il mio paese, i miei amici, poi è ovvio che sono universali perché poi alla fine i miei libri sono letti soprattutto non nella mia regione ma fuori, però se mi devo trovare lì con una cialtronata l'italiana, di quelle che a volte fanno, preferisco di no. Mentre come scrittore quando scrivo più che al film sono legato come racconto a un immaginario più televisivo, un po' più anni 80, poi un po' sballato perché io poi in casa mia avevo una televisione che a caso la prendeva male perché in mezzo agli appennini era sempre una sfumatura verde, quindi tutti i programmi erano verdi e sembrava di vivere in un mondo invaso dagli alieni, che erano tutti verdi, era strano, però ho più un immaginario televisivo, mi dicono che è una scrittura pari cinematografica che si vede, però è difficile da riportare perché è tutto come il protagonista mistifica il mondo e quindi non so come fare, è una cosa che quando farete sceneggiatura chi lo vorrà fare si troverà. Una frase che ti sembra bella in un libro, soprattutto se sei in prima persona, che però è come il protagonista, tipo per me può essere che io quando avevo la mia BMX con le ruote gialle, quando ci andavo sopra per me non era una bici, era il cavallo di Ettore Fieramosca, della disfida di Barletta, era un cavaliere medievale. Ora questa parola ti viene bene, tradurre un'immagine così in un film, è difficile, perché o fai una cosa ridicola che c'è lui che va in bicicletta e dietro vedi il cavallo, cioè non è facile, in questo è sempre, molti che hanno provato mi hanno detto a fare sceneggiatura, per conto loro dai miei film sono trovati addosso, contro questa cosa, molto difficile. I miei editori provano lo stesso a vendere i diritti a casi di produzione americane o indiane, perché hanno molti soldi, dicono così, però tutti dicono che i libri sono molto belli ma secondo loro, poi chi se ne frega, però sono troppo, neanche italiani, sono troppo, una cosa troppo locale e quindi non lo fanno, però io come scrittore non sono molto legato al cinema, proprio quando scrivo. Ciao, allora prima tu hai detto di come la gente reagiva sapendo che tu frequentavi la Golden. Adesso, diciamo, se io vado a qualcuno a dire questa cosa mi sento dire, bella idea, bella scelta, è un ambiente abbastanza difficile, speriamo che tu abbia successo. In genere quest'idea del successo corrisponde, come hai detto pure tu prima, che ne so, uno scrittore di successo è uno che pubblica milioni di libri, un regista di successo è uno che viene candidato ai premi e che fa un sacco di soldi al botteghino, mentre tu sempre prima hai detto che comunque sei felice di poterti permettere di fare come piace a te, a modo tuo, anche se questo significa fare qualcosa che in genere non ci si aspetta e che può andare contro quest'idea generica del successo. Ora io non ti conosco, però mi sembri abbastanza contento come persona e abbastanza sincero. Perdonami la crudezza della domanda, ti ritieni uno scrittore di successo? Ma considerando che in Italia un libro vende mediamente 1500 copie, io ne vendo quasi 30.000, sì, abbastanza. Considerando magari non tutti in una botta ma nel corso di 5-6 anni, considerando che molti scrittori che hanno paginate immense, nomi validi, non vendo niente, però cosa sì, in realtà vedi il successo non dipende dalla Holden, la Holden ti dà un cacciavite e ti dice questo è un cacciavite e ci sviti questo, questa è una chiave inglese e con questa ci puoi far questo, lo vedi quello è un trapano, se devi forrare quella roba lì devi usare questa punta, poi magari puoi provare anche con quest'altra, la Holden ti riempie la tua bottega di un sacco di aggeggi che poi ti servono, ti dà il martello, i chiodi, ti dice quello, 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 però non è la Holden responsabile di quello che fai dopo, perché poi comunque alla fine ciascuno di noi è un mestiere che a parte alcune cose si fa in team, parlo dello scrivere o anche lo sceneggiatore magari diverso però è un mestiere solitario, alla fine sei tu seduto su un tavolo con una tastiera con 21 lettere e ci sei solo te, quello dipende da te, quindi non è che la Holden deve essere sinonimo di successo, quello dipende dopo, molti dei miei compagni non tutti hanno continuato ma è normale, cioè se noi qui ci mettiamo tutti a allenarci per due anni a giocare a pallone e ci fanno calciare di destra e di sinistra contro il muro di testo oppure facciamo tutti per due anni ballo e ci fanno far tutti e ci impegniamo, non è che tutti possiamo diventare ballerini, di sicuro quando usciamo dopo due anni balliamo tutti meglio di quando abbiamo iniziato e calciamo tutti meglio il pallone di quando abbiamo cominciato, perché è questo che fa la Holden, se uno viene alla Holden con l'idea, sì perché magari questa è un'autostrada diretta che scrive un libro arriva subito a Mondadori, per dire, fra le altre cose l'Holden c'ha questo, in effetti se scrivi che sei bravo fai prima, poi adesso è cambiata, c'è anche internet, i blog, queste cose qui, però se ce ne hai e hai voglia di farlo, la Holden sì, in quello sì, è un'autostrada molto più comoda che un sentierino tortuoso, però il successo non dipende da questa scuola, il successo sei te, qui di sicuro ti dà la spada, lo scudo, l'elmo per scendere bene in battaglia, poi però a combattere ci vai te, non ci viene la scuola, in questo, io mi reputo una persona, io sono molto fortunato, cazzo, cioè a me mi pagano per giocare, poi scrivere è bellissimo quando scrivi, forse vi ritroverete fra qualche anno a pensarci, quando intervistano chi fa mestiere come il nostro, scrivere è bellissimo, è così, mentre scrivi è bellissimo, quando non scrivi, scrivere è una rottura di coglioni mai vista, io il momento più bello è quando scrivo fine, mentre lo faccio è la cosa più bella che ho, è come avere una scatola dei Lego con tutti i pezzi, infiniti, e ci faccio quello che mi pare, è come avere una scimmia super ammaestrata, che te giri l'organetto e lei fa le più belle evoluzioni del mondo, e la gente è felice e ti lascia i soldini, il problema è che quando chiudi l'organetto e la gente se ne va, la scimmia sta con te e la scimmia vuole sempre fare le capriole, ma te ne hai due maroni di fargli fare le capriole, perché scrivere è anche così, solo che almeno nella mia testa penso sempre a un modo di raccontare qualcosa che ho visto, solo che la cosa più difficile è mettersi seduto e farlo per ore, 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 però dal momento che inizi a farlo, è una figata, mi piace, mi pagano, è come se da un ragazzino mi avessero detto, come si chiama, la calcincu, l'avete presente? prendi il ciuffino che ti spinge l'amico, o l'autopista, l'autoscontro, io da bambino andavo matto per, volevo essere rapito dai giostrai, per essere quello che aveva la chiavetta dell'autopista che spostava le macchine, che girava gratis, a me mi pagano per, è come se da bambino mi dicevano, ti piace l'autopista, tieni 50.000 lire e vai quanto vuoi, è così, quindi questo mi reputo di successo, perché mi pagano per fare una cosa che mi diverte, diverte come, intendo come i bambini si divertono nei giochi che si fanno prendere, non è solo risate, è il divertimento che richiede anche concentrazione, quando monti un nuovo lego, non so se avete mai visto un bambino di 10-12 anni montare un lego, presissimo, no? Così, quel genere di divertimento, sì, io penso di essere, non sono celebre, chi se ne frega, però è una figata, ti assicuro che fare le pizza ad agosto col fornalegna, o andare a raccogliere le pesche ad agosto, so chi di voi ha mai raccolto le pesche ad agosto, col pelo, che pizzicano, no? È meglio scrivere, un bel po', sì, e basta quello, insomma. Ciao, volevo, una curiosità, ti è mai capitato, o ultimamente, o quando comunque eri, diciamo, agli esordi, di avere un libro, che tu stai scrivendo, che però sei così preso, così che tu, da una parte volesti finirlo, ma dall'altra riesci sempre ad aggiungerci qualcosa, sempre di più, e vedi che questo libro diventa sempre più spesso, sempre più spesso, però non riesci mai a finirlo. Allora, fortunatamente no, io poi scrivo, come dice Stephen King, tutto quello che faccio lo faccio a precipizio, io faccio tutta precipizia all'ultimo momento, io inizio a carburare solo quando ho l'acqua alla gola, non ho mai consegnato un libro in ritardo, mai, però mi sono sempre ridotto all'ultimo momento, adesso io ho scritto un libro che mi hanno commissionato, La Lonely Planet, e l'ho scritto in due giorni, gli ultimi due giorni disponibili, però nei mesi precedenti ho pensato solo a quello, però non mi è mai capitato di, a un certo punto deve finire, poi sai, dipende, non sempre un libro lo scrivi dall'inizio, io ci sono dei libri che li ho scritti sapendo già come era l'ultima pagina, e tutto il libro era scritto in funzione dell'ultima pagina, a volte inizio un libro dal mezzo, non li inizi dall'incipit, magari l'incipit ti viene dopo, non mi è mai capitato di non riuscire mai a finire, mi è capitato invece spesso di piantarmi a pagina 150, perché comunque scrivere un romanzo, allora la cosa più difficile da scrivere sono i racconti, perché è come tirare una freccia a un bersaglio, dal di qui deve andare lì e deve andare in mezzo, non deve parlare di altro, solo di una cosa, è una vita che va stretta da Dio, il romanzo è più una passeggiata, ti infili in quella foresta e dici più o meno è lì, voglio vedere cosa c'è mentre ci vado, fortunatamente i racconti, sfortunatamente, non li pubblica quasi nessuno perché non vendo niente, e quindi chi di voi ha delle antologie di racconti gli faccio i miei più sentiti auguri, perché è difficile che li pubblicano, hai degli racconti, vabbè c'è lavoro adesso, mi trasformi in un romanzo, no vabbè, più che altro ce n'è uno che adesso sto lavorando da qualche anno, a un certo punto devi dargli un taglio, poi qui te lo spiegheranno, a un certo punto deve finire, perché se non sei convinto di come va a finire il libro, No, il problema è che la fine ce l'ho in mente, so come... E cosa scrivi? L'appendice? Cosa stai scrivendo? L'appendice, sai, la fine? No, diciamo, a metà più che altro è un romanzo che, c'è un racconto... Hai scritto la fine Varit? No, 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 c'è tutto lo svolgimento, però andrebbe avanti, poi avrebbe un seguito, un seguito, un seguito, il problema è che trovo sempre cose nuove, belle, interessanti da ficarci dentro, che non riesco purtroppo a terminare quella lì, andare avanti e poi concluderlo. Tanto sei alla Holden, te lo diranno loro, cosa devi fare, a meno che non stai scrivendo Il Trono di Spade, quindi è giusto che tu vai avanti, va avanti, va avanti. No, però a me no, di andare avanti no, capita di non finire e di piantarsi a metà, io ho tre romanzi che sono fermi a pagina 150, è un po' una rottura di scatola, perché sono comunque 95.000 parole per niente, però fa parte del lavoro. Più solo una domanda veloce, quanto ci metti più o meno a pensare a un romanzo, alla storia, in generale? I libri ci pensi tutta la vita, a scrivere materialmente la prima stesura non ci metto più di un mese, un mese e mezzo, tre, quattro mesi a correggerlo. A volte per certi libri li ho riscritti da capo 23 volte, per l'editing queste cose, perché poi i libri li scrivi da solo la prima stesura, poi diventa un lavoro a due perché lo farà con te anche l'editor della tua casa editrice, che sarà un po' il direttore d'orchestra, tu ci metti il violino e ti dice qui più piano, qui più lento, però non ci metto tanto quando mi metto a scrivere. Il più è mettersi lì e iniziare, però non finire, sono sempre finito, ho finito sempre dove dicevo e come volevo. Ma poi ognuno di voi troverà la sua strada perché non ce n'è uno guarda gli altri. Ci sono scrittori che quando non sapevano cosa scrivere mettevano in una scatola di scarpe un nome, in una scatola di scarpe una situazione, tipo allacciarsi le scarpe, in una scatola un luogo e poi sorteggiavano e veniva fuori ragazza triste, spesa del supermercato, Buenos Aires, una viuzza di Buenos Aires. E questo lo obbligava a scrivere una pagina con quei personaggi. Non so se è Cortázar o un altro, hanno scritto interi libri così, sorteggiando i personaggi. Ognuno ha il suo modo, ognuno ha il suo modo. Ciascuno di voi troverà il suo. Comunque avete due anni per far domande anche a gente più brava di me. No, io ci sto volentieri per voi, non so se avete lezioni o altre cose. Il boss ha detto... Ciao. Va bene, sarò breve. Ciao. Allora, intanto, grazie. Grazie di aver condiviso la tua esperienza, cioè l'emozione che hai trasmesso nel racconto che hai fatto, come i tuoi pezzettini della vita che hai percorso lungo la tua vita. E la cosa più importante che ho trovato nel tuo discorso è la sincerità nel quale hai condiviso questo racconto, che sono pezzi della vita importanti, nel quale veramente ci troviamo tutti, siamo persone normali. Ora che sei una persona, un uomo, padre, la cosa che ti ha più mancato, in quale forse hai l'esperazione nel racconto, quello che mi viene di chiederti come scrittore adesso, chi è cristiano quando si mette a scrivere? Chi è? Che ruolo ha veramente? Oltre gli scrittori? Cosa senti? No, guarda che cambia molto, perché il tuo libro d'esordio, quando esordisci, è come quando impari ad andare in bicicletta, che non vorresti mai scendere dalla bicicletta e stai in cortile a girare per delle ore con sta bicicletta, perché hai imparato, ti tolgo le rotelle e vai da solo. Sai quella cosa più difficile che trovo ogni volta quando scrivo? Non si dovrebbero dire queste cose quando si parla di questo, ma chi se ne frega. È ogni volta sedersi e ritornare a essere il ragazzo che scrive nella camera delle case popolari, che non sono più, non ho più quell'innocenza. Ahimè, a volte ti viene sul mestiere, io so che se voglio posso scrivere, perché ho imparato e so fare. Se tu mi dici, io ti pago, mi scrivi un romanzo mettato nello spazio, che gli eroi sono dei conigli blu, io te lo scrivo, perché so farlo. Però quando faccio così, fai fatica a strizzare fuori il cuore quando scrivi così. E il problema più difficile, più passano gli anni, è sedermi e strizzarmi il cuore. Io ho scritto dei libri, anche ultimi, a volte non è detto che siano gli ultimi, dei libri che li ho scritti, ahimè è brutto dirlo, con meno cuore. Sai, un po' perché non puoi star sempre lì a dire, per come scrivo io, legata alla memoria, dirlo, vedi sta cicatrice? Adesso ti faccio vedere come sanguinava. Perché è quello scrivere per me. Condividiamo tutti la stessa ferita, no? E se non c'è il sangue le storie muoiono. A volte dopo un po' dici che due palle, cioè scrivi di cose, ci stai un po' più lontano. E la cosa che faccio più fatica a volte è riaccendere quella magia, il fatto di essere innocente, non pensare che comunque se cambi una cosa, poi i tuoi lettori che sono abituati a certe cose si rompono i maroni. Capito? È brutto dirlo, però se è il tuo lavoro devi fare i conti con questo. Perché io se i miei libri non vendono, dopo il mio anticipo si abbassa. E se mi anticipo si abbassa, sono cazzi. E quindi devo fare in modo di fare bene il mio mestiere professionalmente e ogni volta tirar fuori il sangue. E quello è difficile, è lo più complicato, mantenere l'innocenza o la meraviglia, pur essendo un professionista. Detto questo, mi piace fare un mestiere che mi chiede di fare questa scelta. e non devo solo star lì a fare così senza pensarci. Perché anche... è come fare l'equilibrista. È come fare l'equilibrista. Cioè, è una figata, ti vedono sotto, cazzo, guarda, l'ape raria, come cazzo fa? Il problema è che basta poco e c'è il rischio di volare di sotto. E quando fai lo scrittore, fai un lavoro del genere, non hai tante protezioni di fianco. Io se mi ammalo non scrivo e nessuno mi dà la mutua. Io se non consegno il libro non mi pagano. Io non ho la tredicesima, la quattordicesima. Devo... Devo lavorare, devo inventarmelo ogni volta. È complicato, ma è bellissimo. È così, deve essere come fare il pirata. È complicato, ma è veramente speciale. Sono quello, insomma. Mi sento non speciale, però abbastanza stupido per fare questo lavoro. Però mi dà molto orgoglio il fatto che so farlo. Non è... Quando noi siamo venuti alla Holden, molti di noi avevano un po' di puzza sotto il naso. Io magari no, è altro. Del mettere i soldi con lo scrivere, no? Sta cosa, no? È quella che c'è verso Stephen King, Ken Follett. No, ma vendono troppo, no? Guarda che invece dà grande gusto il fatto che qualcuno si toglie 15 euro dal suo portafoglio per leggere una tua storia. Perché vuol dire che comunque, cavolo, un po' sai fare, no? E questo mi rende molto, molto orgoglioso. E cerchi sempre di metterci il sangue. Non sempre ci si riesce, però l'importante è provarci ogni volta. Quella è la cosa più difficile. Quello sono io ogni volta che mi siedo. Ho 42 anni. È tanti anni che scrivo. Ho molti lettori. e devo sedermi e dire ok, te sei il ragazzo delle case popolari che si siede nel camera delle case popolari e provo a raccontare una storia per iscritto. È bello, è come tentare nuove magie ogni anno diverse e vedere se viene fuori. A volte viene. In bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie.